Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, siamo con un recap della giornata di Champions League, dei gironi di Champions League appena conclusi questa sera. Questi gironi di Champions League sono cominciati ieri sera con le partite tra Sanisburgo e Liverpool vinta 2-0 dai luomini di Jurgen Klopp per 2-0 con i gol di Keita e Salah al 57esimo e 58esimo e poi appunto la vittoria per 4-0 del Napoli con il Genk con la tripletta di Milik e il gol di Martens, però il Napoli ha comunque esonerato Ancelotti e oggi è arrivato il nuovo allenatore Gattuso. Altre partite della giornata di ieri ci sono per esempio l'eliminazione della Champions dell'Inter di Antonio Conte grazie alla vittoria in casa del Barcellona per 2-1 con i gol di Carles Perez e Ansufati dopo il pareggio di Lukaku. L'Ajax esce, anche lui esce dalla Champions contro il Valencia grazie al gol di Rodrigo Moreno. Il Lipsia pareggia 2-2 con Lione, però passano entrambe perché sono una prima e una seconda dopo che il Lilla, cioè dopo che il Lione, il Lione è riuscito a recuperare i due gol dopo che il Lipsia era andato in vantaggio con due rigori grazie a Werner e Forsberg. Il Borussia Dortmund vince 2-0 contro la Slavia Prague grazie ai gol di Gelo Sanso, il nuovo fenomeno, e grazie anche al gol di Julian Brandt. Lilla che invece viene eliminato perché ha perso contro il Chelsea grazie ai gol di Tommy Abram, un altro grande fenomeno. Il nuovo fenomeno del calcio mondiale e anche al gol di Cesar Azpi di Cueta. Vi dico subito una gola, se mi sono dimenticato una squadra ve la dico subito perché ho i risultati qua, scusate se... Ok, sì, ci siamo. Sempre della giornata di ieri invece c'è stata anche l'eliminazione dello Zenit di San Pietroburgo con la vittoria per 3-0 del Benfica. La giornata di oggi invece è iniziata subito con l'epica qualificazione dell'Atalanta e mi congratulo con loro, grandissimi. L'Atalanta che dopo aver perso tutte e tre le partite d'andata, aveva fatto 0 punta all'andata, è riuscito addirittura a passare qua agli ottavi, battendo per ben 3-0 lo Shakhtar Donetsk. Grazie ai gol di Pasalic, anzi Castagne, Pasalic e Gosens, praticamente a tempo scaduto Gosens. Però anche la vittoria, il passaggio del turno è anche grazie al Manchester City che ha vinto ben 4-1 contro la Dinamo di Zagabria con la tripletta di Gabriel Jesus. E sarebbe anche la prima tripletta in Champions League di Gabriel Jesus. Altre partite appunto c'è stata la Juve che è passata, che ha continuato, era già passata da prima, ha mantenuto la sua imbattibilità in Champions, battendo 2-0 il Bayern di Leverkusen, in casa dell'Everkusen nella Bayern Arena. Grazie ai gol di CR7, Gonzalo Higuaín con un doppio assist di Dybala. PSG che strapazza il Galatasaray per ben 5-0. Da quello che ho letto tipo 3 assist di Mbappé, no, 2 assist di Mbappé, segnato Icardi, Neymar, Mbappé, Cavani e un altro che non mi ricordo chi era. Forse è di nuovo Icardi o un Mbappé, non mi ricordo in questo momento chi sia l'altro. Poi ci sono state, allora, ah, la Stella Rossa perde in casa dell'Olimpiakos in Grecia per 1-0. E l'Atletico vince 2-0 in casa sua, con lo comitivo Mosca per 2-0, grazie ai gol di João Félix su rigore e Felipe, il difensore centrale. E da ricordare, anche un rigore sbagliato da Trippier e un gol annullato da Amorato per l'Atletico. Invece per la Juve è un gol annullato a Ronaldo, quindi poteva essere 3-0. L'ultima partita dovrebbe essere di questa serata è Real Madrid-Brusche, finita 3-1 per il Real Madrid, con da quello che dovrebbe essere i gol di Rodrigo e Vinicius Junior, ve lo dico subito. Ah, c'è stato anche il gol di Modric al 91esimo, quell'anno lo sapevo. Mentre per il Bruxche ha segnato Vanaken, o Fanaken dipende come volete dirla, è un belga. L'ultima partita rimasta è invece quella del Bayern Monaco, vinta per 2-1 in casa del Tottenham, no, vinta per 3-1, dal Bayern Monaco a Monaco, con i gol di Koeman, Müller e Coutinho, mentre per il Tottenham c'è stato il gol di Ryan Sessegnon. Quindi lunedì appunto, queste sono, quindi le squadre che sono passate sono appunto Real, PSG, Atletico, Juve, Atalanta, Bayern Monaco, comunque sono passate le prime due di ogni girone, e domani ci sarà il video dell'Europa League, che si gioca domani, anche allora è l'ultimo turno dell'Europa League, si saprà anche lì i vari turni dell'Europa League, chi passa, chi esce, chi... Mentre lunedì ci saranno i sorteggi di Champions, lunedì a Nyon, che è una città in Svizzera, dove vengono sempre fatti tutti le elezioni dei vari gironi. Penso invece dell'Europa League sia o venerdì o lunedì prossimo. Quindi qui da questo recap di Champions League, tra giornata di ieri e oggi, Ci vediamo appunto domani con il video sull'Europa League, sul recap di tutta l'Europa League, che c'è solo una giornata, non giocano venerdì, giocano solo domani, perché le squadre sono di meno. Quindi ci vediamo alla prossima, bella! Grazie!